Se c'è una parola abusata negli ultimi anni è senz'altro resilienza, ma è certamente il termine migliore per definire l'atteggiamento di chi ha chiamato a programmare un intero anno di eventi all'ombra del Covid. Lo sa bene il Comune di Fano che questa mattina ha presentato un'anteprima dei tanti appuntamenti in programma per il 2022. Vogliamo guardare avanti rispetto al periodo difficile che stiamo vivendo e per questo che fin da oggi presentiamo un'anteprima eventi, quelli che sono gli eventi già posizionati nella programmazione estiva, in realtà si parte aprile e appunto si finisce a dicembre dove rimangono, sono confermati i grandi eventi. Quindi partiamo con passaggi che sarà nel periodo di giugno, continueremo con il jazz che sarà a luglio, il carnevale è stato posizionato nel periodo estivo proprio per raccontare il carnevale d'estate visto che nel periodo proprio di febbraio non può essere realizzato. Racconteremo il brodetto, racconteremo cinema e musica facendo rimanere i principali eventi di questa stagione, racconteremo filmografia quindi con Fano Film Festival, racconteremo la polifonia, raccontiamo quelli che sono i luoghi più importanti della nostra città come il teatro, come la rocca, come altri luoghi. Un ricco cartellone dunque nonostante tutto, che riconferma alcuni capisaldi tra gli eventi fanesi, tra cui Passaggi Festival dal 20 al 26 giugno, la Fano dei Cesari dal 15 al 17 luglio e Brodetto Fest dal 9 all'11 settembre. Il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-covid e con l'obiettivo di incentivare il lavoro delle tante attività cittadine. Quindi Fano è pronta, soprattutto le associazioni culturali della città sono pronte, l'amministrazione continua a credere in questi investimenti perché sappiamo che queste attività, questa creatività aiuta poi anche il mondo economico a partire. Ecco, noi da oggi raccontiamo al mondo del turismo, diamo già in mano agli albergatori che faranno promozione in questa primavera, diamo già ai turo per etero, comunque porteremo nelle fiere che porterà avanti la Regione Marche, già un programma di eventi, di attività che la città è pronta ad affrontare e che ovviamente varrà arricchito strada facendo fino al periodo estivo. Il tutto ovviamente è sempre nella massima sicurezza con le condizioni che conosciamo, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, è il motivo per cui ad esempio il carnevale non è stato realizzato a febbraio ma sarà realizzato in modo sicuro nel periodo estivo, è il motivo per cui la Fano dei Cesari purtroppo non si potrà tenere come prima ma sarà una situazione intermedia tra quello che era al periodo diciamo nel 2018 quando c'era la Corsa delle Bighe e quindi quello che sarà in futuro che tornerà ad esserlo ma oggi è un momento intermedio e quindi però la rappresentazione della nostra cultura sarà sempre presente. Un calendario in divenire dunque che deve sin da ora fare i conti con il quadro pandemico. Basti pensare al carnevale che intende onorare l'imminente settimana grassa ma rimanda le sfilate al prossimo agosto. Come sapete tutti i carnevali d'Italia, escluso Viareggio ma insomma tutti gli altri abbiamo tutti dovuto rinviare causa pandemia il carnevale e il nostro carnevale sarà diviso in tre momenti. Durante la settimana grassa che va dal 24 febbraio al primo marzo onoreremo questa settimana con eventi di carattere più culturale diciamo perché sono gli unici che si possono fare e evitano sembramenti. Dopodiché faremo il carnevale dei bambini il 4 e 5 giugno e il carnevale di ferragosto e il weekend di ferragosto. Quindi diciamo che in questi due anni la cosa positiva è che possiamo fare degli esperimenti vediamo come vanno e poi quando si tornerà alla normalità faremo un resoconto di questi esperimenti.